Villa Esengrini Montalbano, progettata dall'architetto Alemagna nel 1874, è una location storica intrisa di fascino ed eleganza. Situata in prossimità del colle Montalbano, sarà il teatro ideale per dare vita alla cerimonia di nozze dei vostri sogni. Soffitti decorati, dettagli in legno e un'atmosfera unica nel suo genere, Villa Esengrini Montalbano è un vero punto di riferimento per tutti gli sposi che desiderano festeggiare il giorno del loro matrimonio all'interno di un ambiente speciale, caratterizzato da uno stile neoclassico che mantiene intatto nel tempo il suo fascino. Il suo parco, curato minuziosamente dallo staff della villa, vi permetterà di trascorrere momenti di pace e relax durante la bella stagione, circondati dalle persone a voi più cari. Presso Villa Esengrini Montalbano potrete usufruire dei servizi offerti da uno staff professionale e competente che, collaborando con un catering di fiducia, penserà anche alla preparazione del banchetto. Ogni aspetto della vostra cerimonia verrà minuziosamente lavorato con l'obiettivo di mettere in piedi un evento memorabile. Celebrare la giornata più importante della vostra vita presso questa villa meravigliosa vi permetterà di vivere un'esperienza che resterà per sempre impressa nei vostri cuori.